Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 15 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Fiori e concerti per fare conquiste. La fantasia per cui andate famosi per presentarsi oggi deve fare lo slalom, superando i cancelli sorvegliati da Cerbero, Ops, Saturno draconiano nel segno. Eppure sognare vi piace, testimone la dolce luna cancerina, amante della poesia e innamorata dei paesaggi lacustri o marini, dove vi spinge anche oggi, anche a costo di infliggervi una lunghissima coda al rientro. Di fiabbe e belle immagini arricchite anche la mente dei vostri bimbi, addestrandoli al linguaggio dei simboli fin da piccolissimi, una tradizione di famiglia che non si perderà nel vento, cappuccetto rosso, biancaneve, cenerentola, sono stati il vostro nutrimento insieme all'omogeneizzato e lo saranno anche per i vostri eredi. Possibile nascita di coppie, di amicizie nuove e di teneri incontri. Si possono concretizzare progetti importanti o di farne nascere di interessanti. Fattori di successo per l'amore che è il grande favorito. Prestissimo realizzerete un vostro sogno, abbiate però cura di ogni particolare da ora in poi. È importante che manteniate la calma e la concentrazione in ogni fase dei vostri sforzi per ottenere quello che desiderate. Novità stimolanti in amore per i nati di lunedì. Situazioni, ultimamente frenate, inizieranno a muoversi di nuovo. Oggi vi sentirete svogliati e senza forze, provate a risvegliare in voi qualche interesse. E se proprio non potete, cercate di riposare. Le emozioni saranno al loro massimo, aspetto, dieta e salute. Oggi potrai guadagnare bene grazie al tuo intuito e ottimismo. Non andate a caccia di streghe, nessuno ce l'ha con voi, ma è il vostro carattere che vede fantasmi dappertutto. Siate più in pace con voi stessi. Oggi non vi arroccate su posizioni rigide e intransigenti, soprattutto in amore, date la giusta libertà e i giusti spazi al prossimo. Vivete al di sopra dei problemi, almeno per un giorno, se volete sentirvi liberi di volare in un sogno. Molto lavoro. Guadagni con le vendite. In amore avrai di scherrete soddisfazioni se saprai mantenere le distanze giuste. Vi sentirete onesti e coraggiosi, ma non per questo meno impulsivi del solito. Potreste avere delle noie a causa della vostra impulsività. Meglio frenare i propri impulsi. Notizie in arrivo per chi vive una storia extra, fate molta attenzione le cose stanno cambiando vostro malgrado e potreste avere qualche delusione anche di una certa importanza. Si alza il sipario della giornata e vi scopre con uno splendido cielo di metà primavera. La luna, vostra madrina ideale, occupa il segno amico del cancro, e qui è ben sintonizzato con l'anima affettiva che vi abita. La vita in casa fluisce serena e senza scossoni, come a voi più aggrada. Essendo, nati nei pesci, segno d'acqua profondamente legato al mondo interiore, sarete sensibilmente attenti a esprimere le emozioni. Riuscirete a tirare fuori i vostri sentimenti, tanto nella dimensione familiare quanto nell'ambiente degli amici. In entrambi i casi questo due ambiti vi colmeranno di soddisfazione. Il vostro tono vitale è abbastanza alto e mercurio dal buon vicino ariete, in aspetto favorevole, protegge la salute delle vie respiratorie. Saturno nel segno intrigono alla luna cancerina vi vuole nostalgici, introspettivi, malinconici. Ma le ragioni del cuore anche stavolta avranno la meglio. Con il partner e i pupi uscite per una passeggiata, un gelato, una pizza, oppure qualche compera fuori programma, magari sulle bancarelle del quartiere o in qualche centro commerciale dove a quanto strilla la pubblicità, oggi si faranno sconti favolosi. In ogni caso sappiate che con venere spendazione in seconda casa non tornerete a mani vuote, magari qualche spicciolo vi rimarrà nel portafoglio, ma a giudicare dalla quantità di sacchetti bisognerà darvi ragione, effettivamente avete concluso ottimi affari. Amore ed Eros Col partner polemico fate di tutto per evitare il litigio, ma l'unica soluzione resta isolarvi con un bel libro lasciandolo a parlare da solo. Felici le coppie appena formate, ancora lontane da questi frequenti incidenti di percorso. I vostri figli sono una delizia, con loro sì che si può parlare senza alzare il tono di voce, educati con amore e rispetto vi ripagano con la stessa moneta d'oro, perché siete in gamba e fortunati. Non vi rabbuiate se il partner è un po' per conto suo. Non lo sollecitate e si farà avanti da solo. La vostra dolcezza e il fascino che saprete emanare oggi ha il potere di attirarlo, o attirarla, anche quando è isolato e apparentemente per conto suo. Lavoro e denaro Se il lavoro vi tocca avete un diavolo per capello, ma se un collega o un amico è in difficoltà vi fate in quattro per dargli una mano, senza aspettarvi nulla in cambio, nemmeno una pizza. Buon cuore o forse solo senso umanitario, questi sono i veri sentimenti, ponti tra un essere e l'altro, liberi da calcolo e da regole se non quelli del cuore. Letture e film spunti per riflettere, se è adatto alla loro età portate al cinema anche i vostri figli e con lo stesso spirito educateli all'arte e alla bellezza, prima si impara meglio e Siete in preparazione di concorsi o esami? Sarete particolarmente disciplinati, Plutone in buon aspetto dall'acquario, segno vostro buon vicino nello schema zodiacale, insieme a Urano nel Toro, vi portano l'energia psicofisica per dedicarvi allo studio. Molto favorite materie biologiche e scienze naturali. Benessere È un parolone, soprattutto se l'umidità accumulata nei giorni precedenti vi procura indolenzimenti, in particolare a piedi e ginocchia, le articolazioni più impegnate durante l'escursione del weekend. La nonna consiglia l'unguento di arnica o l'artiglio del diavolo, ma anche il sale moderatamente scaldato e posto sulla parte dolente esercita benefici e effetti. Per lei, allergiche alla città, partireste il venerdì sera all'uscita da lavoro e tornereste solo il lunedì mattina, lavandovi con le salviettine umidificate senza cambiarvi d'abito. Peccato che al vostro capo l'idea non vada a genio, a contatto col pubblico non basta essere presentabili, bisogna apparire anche charmant. Per lui, se un amico vi chiede aiuto, vi precipitate a dargli una mano. Consigliando per il meglio lui capite anche qualcosa di voi stessi e delle lezioni che la vita impartisce a tutti quanti. Colore delle emozioni, marrone bruciato. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.